Ciao a tutti, sono Henry Goldfinger. Molti di voi mi avranno già visto in film come Svergognata Primavera, Betty Vista da dietro e Banana Chuli Boys. Beh, dopo molte ore sul set anche uno stallone come me può sentirsi stanco. Ed è per questo che oggi voglio consigliarvi Toro Enojado. Toro Enojado, grazie al suo principio attivo speciale, ti regalerà le stesse prestazioni di un toro scatenato. Prendine un po' e fai fare un giro alla tua ragazza o alle sue amiche, impazziranno di piacere. Per una prestazione super, Toro Enojado è la mia scelta. Ehi ha!